McLuhan aveva profondamente torto a mio parere quando diceva che il mezzo è il messaggio, no, 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 il messaggio è il messaggio, il mezzo poi si potrà decidere, si potrà scegliere, oggi c'è un mezzo dominante nella nostra civiltà occidentale che è l'immagine, anzi di più direi che è proprio l'immagine in movimento, quindi firma, filmati, video, ma è un dato culturale, non è un dato immanente alla storia stessa, se no noi dovremmo partire al presupposto che tutte le tragedie greche sono inutilizzabili oggi, non sono più interessanti, invece forniscono un materiale incredibile proprio, pensate un po', all'ambito pubblicitario, marketing e di storytelling, è un argomento che sarà interessante trattare poi una volta, ma le tragedie greche erano trasmesse inizialmente attraverso l'oralità, poi vennero scritte, poi in seguito vennero anche dipinte dai grandi maestri e poi sono state rappresentate attraverso il linguaggio filmico e riadattate e sono state utilizzate come spunti per creare altre storie, altre storie moderne, voi non ve ne rendete conto, ma tanti temi delle storie classiche sono proprio presi pari pari e inserite all'interno delle strutture narrative moderne contemporanee. Dunque, per quale motivo pensare, quando noi dobbiamo costruire una storia, pensare a come la storia deve essere veicolata o attraverso quali effetti noi la abbelliremo, tra virgolette pure, tante volte mi si pone questa domanda, è la prima domanda che viene posta.